A tre giorni appena dalla vittoria con Santa Croce è di nuovo tempo di rituffarsi in campionato. Sulla carta il turno infrasettimanale che attende Pineto di quelli quasi impossibili. La trasferta a Ravenna contro la vice capolista appare dal pronostico chiuso. Il lato positivo però per i giallo-blu sta proprio nell'ultimo turno appena disputato. Perché le parabole delle due squadre sono sostanzialmente speculari ma inverse. Quella di Pineto dopo il periodo nerissimo è in piena risalita. Prove la sconfitta di misura nel Lazio e la rotonda vittoria con i Toscani di domenica. Ravenna allenata dall'ex Antonio Babbini sull'altro fronte invece è in piena involuzione di gioco e risultati. Deve fare i conti con un'infermeria abbastanza affollata, Salgado out e Plesco in forse. E negli ultimi due impegni sono arrivate altrettante sconfitte che tengono comunque i romagnoli in seconda piazza ma a distanza siderale da Padova. Quella distanza che invece Pineto alle 20 e 30 al Palacosta cercherà di ricucire rispetto alla terz'ultima Perugia. Impegno relativamente semplice per gli Umbri sul campo di Roma ultima della graduatoria. Per quanto riguarda la formazione non ci dovrebbero essere novità. Con Calderani in regia, Stefano Voposto sborgia e lo glisce al centro e la linea di ricezione è formata da Bosco, Cuda e da Libero Messana. Pronto a dare manforte dalla panchina il centrale Moretti e il bulgaro Galabinov, utilizzato spesso per alzare il muro con Calderani in prima linea. Certo battere Ravenna non sarà semplice ma Conte e i suoi domenica hanno lanciato un segnale forte. Da qui in poi inizia un nuovo campionato.